e finché il caldo non è da schiattare e quindi il clima ce lo consente siamo di nuovo in esterno oggi per fare un po di book haul per farvi appunto vedere qualche cosa che è entrato nella libreria e non è tutto ma qualcosa per cui prevedo qualche altro video di book haul prossimamente e andiamo a cominciare prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale se avete ancora fatto per nuovi book haul per nuovi video qui parliamo di libri facciamo recensioni senza spoiler vi parlo di quello che leggo e anche di quello che scrivo perché sono appunto anche autrice oltre a lavorare come ghostwriter da qualche anno scrivo anche per me per me proprio e qua cioè firmo quello che scrivo e ho pubblicato il mio primo romanzo l'amica degli spiriti e ho una collana di racconti su amazon come amazon publishing ovvero le briciole e sono già usciti i primi due volumi uno è un giallo e l'altro è un horror tra l'altro il giallo ha vinto il terzo premio al corenno in giallo 2023 e spero di poter partecipare di nuovo a il corenno in giallo ma l'edizione di quest'anno del 2024 entro al 15 maggio bisogna inviare un nuovo racconto e spero di riuscirci tra l'altro e qui lo dico anche per gli aspiranti o gli autori emergenti o esordienti insomma che mi seguono quest'anno c'è una novità non solo corenno in giallo ma anche horror e quindi se avete pronto qualche racconto nel cassetto sia giallo che horror provate è un concorso gratuito e io lo straconsiglio tra l'altro avrete anche l'occasione di se appunto sarete selezionati di andare a corenno plinio di visitare questo borgo pazzesco nel comune di dervio sul lago di como questo borgo bellissimo di origine celtica sul lago e di farvi appunto anche una bella piccola vacanza se non siete mai stati da quelle parti comunque se siete curiosi volete vedere qualcosa perché sto parlando di qualcosa volete saperne di più sul canale c'è un video tutto dedicato c'è un vlog proprio dedicato al viaggio a corenno che abbiamo fatto l'anno scorso nel mese di settembre e poi c'è anche appunto il video dedicato al concorso la premiazione e quello che è stato comunque passiamo a questo piccolo piccolo insomma abbastanza piccolo book haul allora questo mese sì perché questo mese cioè ad aprile appunto ho comprato per la prima volta dei libri usati su un gruppo facebook dedicato alla vendita e allo scambio di libri harmony è un gruppo che mi piace molto non avevo però ancora comprato avevo sempre guardato seguito appunto i post che venivano pubblicati mi piace molto perché le persone non solo vendono libri harmony e si possono trovare anche delle vere chicche cioè dei libri vintage quindi blue moon collane appunto che appartengono ormai al tempo andato ma si possono anche stringere amicizie ed è questa la bellezza del libro una delle degli aspetti belli uno degli aspetti belli dei libri cartacei cioè intorno ai libri si possono stringere amicizie e questo è quello che accade ad esempio in questo gruppo come in altri dove le persone si scambiano i libri e insieme ai libri magari nel pacchettino del piego di libri mettono una bustina di tè un post it è un pensiero carino un bigliettino per le persone che andranno a ricevere questi libri e questa è una delle cose belle non soltanto di questi gruppi ma anche una prerogativa delle lettrici di romance lo dico perché voglio in qualche modo spezzare una lancia a favore di questo target di lettori purtroppo spesso bistrattato spesso offeso in giro anche dagli stessi autori mi ritrovo molto spesso a leggere commenti anche di scrittori come sono io cioè comunque di tra virgolette di colleghi colleghi aspiranti o scrittori che parlano male di questo genere ne parlano quasi con livore con odio e poi se vai a chiedere non hanno mai letto nulla di questi questo genere un genere che chiaramente può piacere o meno però ha avuto un'evoluzione in questi ultimi anni pazzesca è il genere più letto in italia e non credo che tutti noi lettori e lettrici di romance siamo dei dei cidroni diciamo così nel senso io sono convinta che se un libro un genere ha un determinato successo c'è una ragione che uno può anche non condividere può anche non apprezzare ma c'è una ragione e va comunque rispettata ripeto un genere che dai tempi di liala ha avuto un'evoluzione enorme è cambiata sicuramente la sensibilità c'è stato un restyling totale del genere quindi non si può dire che un harmony uscito 20 anni fa possa essere attuale questo no ma è comunque un genere che ha migliorato molto la sua credibilità in un certo senso che ha raggiunto sempre più lettrici e lettori perché sono anche tanti lettori di questo genere non dobbiamo dimenticarcelo ci sono anche degli scrittori da tanto di cappello che scrivono questo genere alcuni li conosco uno in particolare un amico su instagram e quindi voglio dire perché no perché alzare muri i libri dovrebbero unire le persone dovrebbero aprire al dialogo dato che comunque non siamo neanche tanti purtroppo in italia in generale come lettori non vedo perché dobbiamo alzare barriere tra generi letterari anche perché diciamo cielo ognuno poi può leggere un po' quello che vuole quello che rientra più nelle sue corde detto questo fatto questo piccolo cappello doveroso perché comunque voi sapete che tra le mie esperienze di scrittura e ne parleremo perché comunque è un manoscritto che ho in lavorazione c'è anche la commedia romantica clic clic ne parleremo ripeto perché sono ancora cose che io in lavorazione quindi non vi posso dire che è appunto domani o dopo domani potete comprare il libro perché sono ancora progetti in divenire ma comunque ci sono e quindi appunto questo e poi il terzo o il quarto numero delle briciole che sapete essere una serie di racconti periodica che pubblico appunto su amazon sarà proprio dedicata al romance sarà un romance non so se un romance classico o una commedia romantica ancora non lo so perché sinceramente ancora non l'ho scritto però lo sarà sicuramente perché sapete che nelle briciole cerco di affrontare un po' i vari generi per cui è già uscito un horror che è stato il primo l'ultimo zombie di trevi poi è uscito il mistero dell'unicorno che è un giallo classico deduttivo che ha vinto il terzo posto al correndo in giallo 2023 e poi penso che uscirà subito dopo una storia per bambini e poi il romance quindi o il terzo o il quarto sarà il romance detto questo ho scoperto appunto questo gruppo facebook e alla fine in una sera forse era una domenica sera mi pare che fosse domenica scorsa o sabato domenica scorsa ho deciso di comprare sono gruppi dove potete comprare veramente con pochi euro perché le persone fanno degli stock oppure vendono libri a un euro io ho visto dei prezzi veramente bassissimi a partire da 20-25 centesimi quindi veramente un divertimento per tutte le tasche come dicono a Genova anche per i misci e io comunque ho comprato e sono stata molto contenta perché ho ricevuto rapidamente questo piego di libri vi faccio vedere allora la figlia dell'astrologo di Paula Marshall un grande romanzo storico ambientato a Londra nel 1665 nella Londra devastata dalla terribile peste del 1665 due gentiluomini della corte di Carlo III scommettono sulla bellissima Celia Antiquis un barone e va bene quindi vediamo un attimino cosa ne sarà poi sempre i grandi romanzi storici Il Barbaro eccolo qui di Judith French pluripiemiata autrice di oltre 30 romanzi storici e contemporanei vanta tra i suoi antenati sia dei coloni inglesi e scozzesi e dei nativi di una tribù per cui vedremo e poi l'ultimo Il Cammino di Santiago sempre grande romanzo storico non so se in questo o in un altro ho trovato addirittura un gratte e vinci perché sono libri dei primi anni 2000 adesso vediamo un attimo se lo ritrovo eccolo qui ve lo faccio appunto vedere sta nella figlia dell'astrologo una sorta di gratte e vinci non ancora grattato per cui il libro è penso in tonso cioè non credo che sia mai stato letto anche gli altri non mi danno questa impressione e si andava a vincere un gioiello vedete che idea carina e questi sono stati appunto i tre libri che ho acquistato a un prezzo veramente esiguo considerato che ho speso 4,50 euro i tre libri più le spese di spedizione poi passiamo ai libri che ho reperito andando a farmi l'analisi del sangue perché sono riuscita anche andando a farmi l'analisi del sangue a trovare del book crossing degli scambi libri e quindi sono riuscita a recuperare altri libri lo so solo io però hashtag solo io ma questo è allora cominciamo con un romanzo di un'autrice che io ho amato molto per anni ovvero Sophie Kinsella un'autrice di commedie romantiche oggi si direbbe click lit ma proprio commedie romantiche pure magari qualcuno ha iniziato a conoscere questa autrice con il film con i love shopping e questa edizione mi ha colpito molto perché appunto porta la copertina con l'immagine del film tra l'altro dal 27 febbraio al cinema quindi era proprio uscita questa edizione in concomitanza con l'uscita del film negli anni in cui poi ho avuto Leonardo quindi parliamo di ai noi 15 16 ormai perché ha compiuto 16 anni 16 anni fa amavo tantissimo Sophie Kinsella me li ero comprati tutti i suoi quindi quando usciva un nuovo libro di Sophie Kinsella me lo compravo quindi come potete vedere alla fine la commedia romantica mi è sempre piaciuta e mi compravo appunto un nuovo libro di Sophie Kinsella questa serie qui dei love shopping ce l'ho tutta l'ho letta tutta se non conoscete Sophie Kinsella ve la consiglio soprattutto se siete appassionate se seguite Felicia Kingsley e altre autrici di romance contemporanei come la Premoli insomma non potete non amare e non conoscere anche più che non conoscere non lo posso dire perché ognuno conosce un po' quello che vuole non è questo ma non potete non amare una scrittrice come la Kinsella perché è veramente divertentissima quindi top come commedia romantica number one come direbbe Checco Zalone e quindi appunto ho preso appunto questa edizione di love shopping poi sempre in questo scambio libro così un po' rocambelesco diciamo così di stampo ospedaliero ho preso Twilight il primo volume della saga di Twilight in questa edizione qua io non ho mai letto nulla di Stephanie Meyer non la conosco appunto come autrice ovviamente la conosco di fama chi non conosce Twilight ma non ho mai letto nulla ho sentito dire di tutto di più su questa serie di libri ne ho sentito parlare bene e malissimo per cui non mi sono fatta ancora un'idea mia magari quest'estate chissà mi metterò a leggere questo primo volume vedremo non lo so anzi a proposito se qualcuno ha letto la saga di Twilight scrivetemi nei commenti cosa ne pensate se potrebbe piacermi perché io chiaramente il libro qui l'ho reperito a Book Crossing però voglio dire potrebbe appunto piacermi questa questa saga non lo so penso che si parli di vampiri è da quello che ho potuto capire e sapere però non so altro poi questo libro invece qui pesci volanti del quale non so assolutamente nulla è un libro della Fanuccia Editore scritto a due mani l'ho preso perché ho letto la parola Liguria sul retro di copertina su diciamo questa questa parte qua appunto dedicata a una sorta di di pitch abbastanza lungo anche direi per cui è un libro nuovo vedete assolutamente non è mai stato letto si vede in tonso e mi incuriosisce molto quindi penso che prossimamente lo leggerò proprio perché leggendo questo pitch è riuscito comunque ad incuriosirmi e poi c'è una specie di saggio credo un saggio i baci non sono mai troppi di Rachel Martos anche di questo non so assolutamente nulla ma mi ha incuriosito i baci non sono mai troppi se ne possono dare tanti senza paura di esaurirli ed è l'uso migliore che se ne possa fare Rachel Martos è un giornalista scrittrice e soggettista nata a Madrid laureata in scienze della comunicazione e quindi non lo so se è un saggio una raccolta di racconti non lo so vedremo comunque mi ispira molto poi prima di concludere perché i libri appunto sono qui volevo farvi vedere due nuovi acquisti il primo forse l'ho già fatto vedere non so se l'ho fatto vedere qui su youtube o su instagram perché non è un acquisto recentissimo nel senso che l'ho fatto mi pare un paio di mesi fa ovvero questo libro di Ruben De Luca serial killer un bel librozzone scusate il termine non esiste che appunto mi serve tra virgolette per lavoro nel senso che sto scrivendo una sinossi per un nuovo romano e ho bisogno di studiare questo tipo tipologia di argomenti non vi dico niente perché sarebbe abbastanza ovvio dire beh sì allora se fai questo tipo di studi sicuramente sfornerai un thriller non è assolutamente detto che sarà un thriller però mi serve studiare questo tipo di argomenti legati appunto al serial killer e legati in qualche modo un po' alla mentalità tant'è vero che oltre a questo sto anche ampiamente leggendo il grande libro del crimine che adesso qui non vi ho portato ce l'ho appunto dentro casa ma comunque sto trovando estremamente interessante e qui mi è piaciuta l'introduzione di Roberta Bruzzone che io amo molto la seguo anche sul suo canale youtube e scrive anche sulla rivista giallo che io compro tutte le settimane e quindi niente molto interessante la prefazione comunque l'impostazione tra l'altro lei parla molto bene di questo Ruben De Luca e del lavoro appunto che ha fatto qui ci sono tantissimi serial killer chiaramente nella storia ma c'è anche un discorso legato alla psicologia già nell'introduzione perché noi siamo abituati a pensare un po' per questioni cinematografiche che queste persone siano estremamente capaci estremamente intelligenti che amino in qualche modo sfidare gli inquirenti non è sempre così anzi a quanto dice il libro non è quasi mai così quindi non c'è nulla di particolarmente esaltante in questi personaggi di accattivante come spesso viene fatto credere da determinati prodotti cinematografici molto spesso sono persone malate con problematiche proprio loro che non hanno appunto superato e e quindi il quadro che viene in qualche modo dipinto di queste figure è un quadro il più possibile oggettivo l'oggettività lo so ragazzi non esiste ma il più svincolato possibile da un'immagine cinematografica spesso edulcorata che abbiamo di questi personaggi non è detto che abbiano delle intelligenze sopra la media anzi spessissimo non è così diciamo che molto spesso sono persone normali che smettono di fare quello che fanno per questioni banali o perché magari muoiono o perché in qualche modo si frena questo loro impulso disgraziato e quindi ad uccidere e quindi ripeto un libro che getta uno sguardo assolutamente poco cinematografico e per certi aspetti anche molto meno esaltante e anche molto più triste di quello che spesso viene intuito in televisione in generale sostanzialmente per cui sono molto curiosa tra l'altro è un saggio quindi lo sto leggendo un po' a spizzichi e bocconi si può approfondire un personaggio poi tra l'altro copre una diciamo una fascia storica molto ampia da jack lo squartatore venendo appunto in avanti quindi c'è veramente di tutto poi l'altro acquisto invece molto più leggero tra virgolette ho comprato un altro volume dello scratch e relax che è tutto dedicato all'art nouveau si tratta di una tecnica di rilassamento che io amo tantissimo e ho già non dico quasi completato però sono a buon punto di un altro di questi volumi ovvero quello dedicato ai giardini incantati e vi faccio vedere come sono fatti questo l'ho già completato vedete anche questo che sono quelli che ho completato e si presenta in questo modo quindi voi avete una parte di disegno e una parte invece da grattare vi assicuro se non avete mai provato che è una tecnica estremamente rilassante poi vedete come sono fatti cioè sono fatti come delle tavole quindi quando poi voi avete finito potete tranquillamente staccare la tavola senza rischiare di danneggiare il volume e la tavola magari ve la andate ad appendere da qualche parte in casa in camera ve la incorniciate insomma potete appunto avere poi anche l'immagine una volta finito che potete utilizzare in casa per decorare magari un angolo eccetera quindi doppia azione e poi potete utilizzarlo per rilassarvi di questa serie del relax dell'aggiunti Demetra ce ne sono parecchie io ho scelto questa dedicata all'art nouveau e non ho ancora appunto utilizzata cioè non ho ancora fatto niente perché voglio appunto finire prima questo delle 12 sono 12 immagini per grattare diciamo così avete questo bastoncino però adesso vi do uno spunto prima di tutto se ve lo perdete perché può essere ad esempio di questo io me lo sono perso a un certo punto potete tranquillamente utilizzare i bastoncini quelli di diciamo d'arancio si chiamano bastoncini d'arancio sono dei bastoncini di legno hanno una parte con una punta e una parte invece con una spatolina che sono quelli per la manicure sostanzialmente li trovate per la manicure e io li trovo fantastici perché utilizzo sia la parte appuntita sempre per grattare ovviamente la parte nero che la parte a spatolina e mi trovo stra bene quindi consigliatissima questa linea per rilassarvi nelle pomeriggi nelle serate primaverili per farvi un momento di relax tra l'altro assolutamente consigliatissimi per tutti ma soprattutto a chi soffre un po' di overthinking come la sottoscritta cioè la tendenza a pensare tanto continuamente per cui ho notato che quando inizio a fare questo tipo di tecnica a lavorare sul appunto sul mio libro automaticamente un po' i pensieri si spengono riduscete un po' il carico dell'overthinking quindi consigliati per tutti ma in particolare a chi ha questa sensibilità chiamiamola così e questa caratteristica un po' mi pare di avervi detto tutto nel prossimo video spero di potervi parlare del libro ragazze infrante che sto appunto leggendo in ebook questo libro che vedete qui un libro che ho già detto nel video precedente mi sta piacendo molto e quindi probabilmente il prossimo video sarà dedicato alla recensione di questo libro con questo quindi vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video ciao